Grazie a tutti. Salvo rari casi. Ecco, questo è uno dei rari casi. Innanzitutto perché voglio dare a Mario Balotelli il mio personale benvenuto a voce. E anche se non lo vedo in faccia in questo momento, posso immaginarmi, come ho fatto altre volte, di darglielo, diciamo, di persona, tra virgolette. In secondo luogo, perché la chiusura di questa telenovela, perché fatemelo passare, fatemela definire in questo modo, mi rende felice di essere stato attendista. Perché, a parte un giorno, un giorno in tutto questo periodo, non ho mai vissuto con troppa attenzione questa situazione. E ho potuto sempre valutarla con tranquillità. Ma di questo poi magari parleremo anche in altri termini, in un altro momento in generale. Quello che però oggi vorrei fare, prima di lasciarvi alla scheda, è invitare tutti, sia quelli che lo vedevano e lo vedono come una risorsa imprescindibile, sia quelli che invece lo criticano, a valutarlo per quello che farà adesso. Perché, come tutti, anche Mario, credo che sarà da elogiare quando lo meriterà e sarà da criticare quando lo meriterà. Ma non per il suo passato. Non per il suo passato. Per il suo presente e per il suo futuro al Genoa. E andrà sostenuto, come tutti i giocatori che passano con questa maglia, finché rimangono con questa maglia. Il ragionamento che ho fatto in un video precedente, in cui mi permettevo di darvi già un consiglio, ve lo ripeto, tutti quelli che sono con questa maglia vanno sostenuti. Sostenuti non significa idolatrati e mai criticati. Semplicemente vanno valutati per quello che fanno quando hanno questa maglia. Il passato di Balotelli lo conosciamo, ma conosciamo anche quello che lui ha detto sul suo presente e sul suo futuro. Bene, valutiamolo in base a quello. Questo è l'invito che faccio ai tifosi. Detto questo, forza Mario, forza Genoa, ci vediamo a un prossimo video o una prossima live. Vi lascio alla scheda. Genoa, la mano di un figlio e di un padre. Genoa, Genoa. Genoa, sorgente, ispirazione. Genoa, c'è ancora il profumo del prato. Genoa, la gioia, quel cielo e la nord. Ci sono i ragazzi di ieri, qualcuno che non scorderò. È un gioco, un bisogno, un destino, un nodo che non scende più. Genoa, mio figlio, mio figlio mi tende le braccia, che ha visto le maglie laggiù. Genoa, storia da raccontare. Genoa, un abbraccio, una sola passione. Genoa, 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 quando il vento è tagliente. Genoa è un fiore che cresce comunque. Genoa. Genoa, 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 genoa Grazie a tutti.